questo programma è offerto da LICUORI PREGIATI BY LUXOR via Salvatore Di Giacomo numero 2 Mugnano di Napoli LICUORI PREGIATI LA QUALITÀ PRIMA DEL MARCHIO Buonasera, buonasera, giovedì sera doppia, lo diciamo sempre, buonasera, ben ritrovati, questo è l'appuntamento dedicato con il ciclismo campano, 52 per 12, il ciclismo la mia passione. Continua l'avventura del giovedì sera, giovedì sera che praticamente è dedicato a questo sport meraviglioso, ha due ruote, ogni settimana parliamo, cominciamo a parlare dai giovanissimi, poi gli amaltori, non parliamo del Giro d'Italia perché veramente lo fanno benissimo gli amici di NERAI. A proposito, convinto del grande successo, noi abbiamo lanciato un grande sondaggio, chi vincerà il Giro d'Italia tra Nibali, Carapazzo e quant'altro, tutti Nibali. Poi abbiamo un grande tifoso di Nibali, amico, questa sera lo presento subito Francesco Vitiello, buonasera Francesco. Allora, tu che sei stato in giro per l'Italia, sei stato con Vincenzo, non lo lasci mai, che dice? Sta abbastanza in forma. No, sta in forma, questo si sa, però non ha dato ancora la zampata a Vincente. Sì, lui comunque ci sta provando. Ci sta provando, speriamo bene, dai, speriamo bene. Allora, Francesco Vitiello, organizzatore, ne parliamo tutti i giovedì sera, organizzatore della prima Gran Fondo della Campania. E finalmente te lo posso dire live, la Gran Fondo che è destinata ad essere la futura Nove Colli Campana, quindi ce la sta mettendo tutta. Vicino a Francesco Vitiello abbiamo l'addetto stampa della manifestazione, il giornalista Aniello San Marco. Buonasera, buonasera Aniello. E poi non poteva mancare perché lui non è ciclista praticante, però sa sempre lui, la bici, dove ci sono gare, manifestazioni sportive a due ruote. C'è lui, Gaetano De Luca. Buonasera a voi. Gaetano De Luca, responsabile dello staff, insomma, e soprattutto della logistica della manifestazione. Allora, io mi siedo, perché mi siedo? Perché voi sapete tutti che siamo in diretta Facebook, in diretta streaming, quindi vi vado a seguire e potete interagire tranquillamente sulle nostre pagine, la quarto canale Flagreo, la 52x12, sulla mia pagina Mino Monelli. Poi, se volete, potete interagire con i nostri contatti telefonici 081 804 74 77 oppure messaggino WhatsApp 351 24 37 621. Veniamo subito al gran fondo della campagna. Tre giorni meravigliosi saranno 20, 21 e 22 di settembre. Sì, allora, Mino, il progetto nasce già con una base di anni, quindi questa gran fondo non è che ci abbiamo pensato adesso di farla, quindi è il mio obiettivo già da tre o quattro anni. Quest'anno ho messo il punto e ho detto che si deve fare, quindi siamo partiti con l'organizzazione, con tre giorni che si svolgeranno a Vulcano Buono, un centro commerciale che sta a Nola. Abbiamo il venerdì 20, c'è la conferenza stampa, sabato 21 c'è l'apertura del Bike Village e domenica 22 c'è la gara. Domenica 22 c'è la gara. Una gara che si presenterà sicuramente nel migliore dei modi, anche perché fortunatamente l'estate si è spostata. Tutte le previsioni dicono che si arriverà a ottobre anche a novembre, quindi con le condizioni meteo sicuramente stiamo a cavallo. Sì, speriamo bene che il tempo resti buono, insomma, che ci sia sole quella domenica. Come mai hai scelto Vulcano Buono? Vulcano Buono perché ovviamente quando si parla di una gran fondo abbiamo bisogno di spazi. Quanto più spazio c'è, più l'atleta che si iscrive si sente abbastanza organizzato, anche lui, con parcheggi, tutti i servizi che il Vulcano ci offre all'interno, tante cose. All'interno della piazza ci sarà questo Bike Village, quindi con espositori del settore e così via. Ospiteremo anche delle scuole di ciclismo, dove all'interno del Vulcano ci saranno delle aree dedicate per i bambini che faranno prova a bici, con birilli, con tracciati, tutti i percorsi che metteranno in atto, gli organizzatori perché ognuno farà la sua parte. Adesso mi seguo gli organizzatori perché oltre te c'è qualcun altro. Della scuola di ciclismo che ospiteremo all'interno della piazza. E questa è una bella idea. Ovviamente ho iniziato con un buon augurio con la dedica del nostro campione Nibali. Giustamente non poteva mancare la dedica di Vincenzo Nibali che nonostante i suoi impegni... Non mi ha promesso, ma forse se tutto va bene per i prossimi anni, pedalerà insieme a noi. Tu sei convinto di questa cosa? Io sono convinto perché in tutto quello che faccio ci metto la passione. Questo è sicuro, io l'ho sempre detto, l'ho detto, lo dico e lo dirò. Francesco Vitiello è uno che in pochissimi anni nelle sue zone, le tue zone, Torre del Greco, anche Torre Annunziata, hai portato un certo movimento, il Giro in Rosa hai portato, hai organizzato qualche gara amatoriale. Anillo è uno che si muove dalle vostre parti. Francesco è uno che si muove tanto e riesce a unire la professionalità e la passione. Possono sembrare spesso due concetti che si sposano nell'organizzazione, ma non è sempre così. È una passione professionale che mette in tutto. Tu hai ricordato il Giro Rosa, ma Francesco mette la sua passione anche nella eventuale garetta che ha organizzato qualche anno fa insieme a Nino, che è sempre presente. Io mi inserisco tra loro nell'ultimissimo periodo, quindi li ho prima guardati dall'esterno e poi fortunatamente Francesco e Nino mi hanno accolto nella loro famiglia e mi sto davvero divertendo da appassionato di ciclismo e ovviamente anche da comunicatore. Quest'anno Francesco ha detto bene, ha scelto Vulcano Buono, ma l'ha detto anche. Francesco, consentimi se faccio un'aggiunta. È anche Vulcano Buono che ha scelto la Gran Fondo, perché stiamo registrando l'entusiasmo dei responsabili di Vulcano Buono nel accogliere questa manifestazione e nel vederla crescere giorno dopo giorno, perché è vero che stiamo alla prima edizione, ma è una manifestazione che arriva al 22 settembre con già un numero di iscritti abbastanza significativo e ha quattro mesi dall'evento e comunque già un grandissimo risultato e porta poi insieme anche dei testimonial. Qualcuno li ho visti in fotografia mentre parlava a Francesco, uno è Gibelto Simoni, che ha vinto due giri d'Italia. Ci sarà poi come testimonial anche il Diablo, Claudio Chiappucci, che non c'è bisogno di presentazione per chi ami un poco poco il ciclismo e ancor meno presentazione, forse ne ha bisogno un altro grandissimo nome come Francesco Moser, che è uno dei tre testimonial che appunto saranno presenti quel giorno. Francesco Moser, presumo, non pedalerà, ma Gilberto Simoni e Claudio Chiappucci, secondo me, alla fine saliranno anche in sella. Claudio sicuramente, sì, anche perché si diverte. Ricordo una delle ultime volte, sembra proprio a Torre del Greco, quando terminò la gara, disse, cavolo, insomma, ho pedalato per anni con i professionisti, mi ritrovo tra gli amatori, c'è qualcuno che, insomma, da qui devi starci lontano, però mi sono divertito tantissimo, questo è il bello di essere poi da professionista, passare a un amatore, anche perché poi Claudio non ha lasciato il mondo del ciclismo, non pedala più, perché giustamente ha fatto una certa, però è sempre inserito, è sempre inserito. Quindi Chiappucci, Simoni, Francesco Moser, veramente tre miti di un'epoca passata, passata alla grande, perché forse sono gli ultimi campioni, rimangono solo il grande mitico Pantani, che a me non c'è più, Gianni Bugno, l'attuale Vincenzo Nibali, poi, insomma, rimane poca roba, no? A livello ciclistico. Quindi ci siamo quasi. Anielo mi diceva a quattro mesi dall'evento, ma tu ci stai lavorando già da un bel po'. Abbiamo fatto anche qualche passeggiatina insieme al Vulcano Buono per organizzare il tutto. A che punto sei? I nostri telespettatori lo vogliono sapere, perché sai che è una trasmissione di nicchia, ciclismo, ci stanno guardando in tanti. Saluto Ferdinando Caliendo. Ferdinando, tra un po' arriverà anche al servizio della Fabianum. Questa settimana ho chiuso l'invio di tutte le richieste per le autorizzazioni della Gran Fondo, perché, Mino, oggi organizzare una Gran Fondo in Campania è come scalare l'Everest, quindi è molto impegnativo. Non è solo fare la richiesta, ma curare 28 comuni. Cioè, noi andremo per i 28 comuni a dire, noi dobbiamo fare la Gran Fondo Campania. Di cosa avete bisogno? Questa è la vera passione per me. Certo, sicuramente, sicuramente, perché poi 28 comuni non sono, possono sembrare pochi, ma vi assicuro che in Campania sono veramente tanti. L'unica medio fondo, tra l'altro, che attraversa più comuni è la Matesanio, che ne attraversa 13, ma nel Casertano e nel Beneventano, dove praticamente c'è una densità demografica inferiore, le macchine non portano un traffico esagerato, farle nei comuni napoletani. Hai avuto un coraggio? Ci vuole coraggio e forza, come si dice, quindi sarà una battaglia. Sarà una battaglia che vincerai sicuramente, anche perché ti sei coadiuvato di persone al tuo fianco che veramente sanno fare il proprio lavoro. Insomma, Aniello, inutile dire, è giornalista professionista, quindi sicuramente la comunicazione la curerà bene e a 360 gradi. E poi c'è il mitico Gaetano, Nino, che è un factotum, responsabile logistico. Allora, previsioni, fammi una previsione di questa prima edizione. Anzi, chiamiamola edizione zero, dai, della Gran Fondo della Camera. I numeri di atleti? I numeri, io quando parlo di previsioni, è a 360 gradi, perché molto spesso i numeri sono importanti. Però non è tutto. Ma i numeri preferisco ancora non esprimermi, è meglio che ce li teniamo per noi. Diciamo che ci stiamo muovendo in tutti i settori per cercare di organizzare tutto per bene. non manca minuto che pensiamo sempre alla stessa cosa. Sta andando tutto come avevamo un po' programmato. Come avevate programmato, quindi i programmi vanno alla grande. È bello questo roll-up che mi avevi promesso, insomma, ho capito. Finalmente è arrivato. No, perché poi, Anielo, io ne sto parlando da qualche settimana, da un mesetto circa. E giustamente parlo. Posso poi sembrare di parte, perché appassionato di ciclismo, trasmissione di ciclismo, lancia questa bomba, perché nel mondo amatoriale è una bomba in Campania. E poi le domande mi vengono fatte, ma si fa, non si fa, si farà, ma sicuro, siamo sicuri. Perché hanno detto, ma forse dicono, ecco signori, ci siamo, perché è la conferma che sta procedendo tutto alla grande. Già ci sono, Gaetano ha voluto dare i numeri, ma ci sono numeri già iscritti. Perché facciamo vedere, anzi mi alzo, mi alzo un attimino perché devo dire... È l'esclusiva della serata. È l'esclusiva, no, la devo far vedere subito, anche perché adesso andiamo un attimino con il servizio. Questa è l'ufficiosa, però voglio, mi permetti di dire una cosa. Giussi, questa era per te, praticamente la dovevi indossare stasera, dovevi indossare la maglia del gran fondo della Campania. Purtroppo Giussi si è infortunata, quest'oggi in palestra, non va in bici, però è un'atletica, ci tiene al suo corpo, al suo fisico, alla sua linea. Speriamo di ritrovarti, anzi spero di ritrovarti domani in trasmissione. Comunque è bella questa maglia, fratelli Balsamo di Torre del Greco che hanno appoggiato e sponsorizzato la maglia. Insomma, che dire, pronta la maglia, anche i colori. Il verde perché? Perché ti piace il verde? La speranza che possa andare tutto bene. Ah, la speranza che possa andare tutto bene. Allora, noi con questa, un attimino, prima di mandare il contributo della Farmacia del Sole, saluto Aurelio Cesario che dice Ciao Mino, puoi proporre il sabato del gran fondo della campagna di organizzare una gara per giovanissimi nel centro commerciale Vulcano Buono. Aurelio, evidentemente ti sei sintonizzato in ritardo, perché di questo... Però Aurelio deve portare il figlio adesso. Sì, 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 sì. Assolutamente. No, 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 sicuramente i bambini, Aurelio ha posato la bici anche perché ha tentato al velodromo di Marcianise di montare in sella, ma ormai non è cosa sua. Roberto già ancora ancora ci sta e saluto. No, tutto organizzato, poi insomma verrà informato seguendo 52x12 e incontrandoci, incontrando Francesco Vitiello, saprai che è stata organizzata il sabato questa cosa qui al centro commerciale per i bambini. Quindi continua, dice noi come squadra possiamo aiutare agli organizzatori per i giovanissimi. Ok, insomma vi conoscete, ormai nell'ambiente ci conosciamo un po' tutti, tutto predisposto anche per i bambini. Adesso ci fermiamo un attimo perché sapete, io ringrazio sempre la farmacia del sole di quarto che ci aiuta a propagandare anche questa trasmissione. E' il momento dei consigli, perché andare in bici sì, ma ci sono dei consigli e delle regole da rispettare. Questa sera parliamo di? Scopriamoli insieme. Buonasera, stasera vogliamo parlare di recupero e sonno. Il sonno, il riposo e il recupero sono fondamentali per il ciclista quanto l'allenamento. Sonno e allenamento si influenzano a vicenda perché dormire poco e male mi determina delle prestazioni fisiche non efficienti e anche allenarsi troppo tardi la sera mi determina un affaticamento nell'addormentarsi, quindi un sonno faticoso e frazionato. Il ciclista amatoriale deve tenere presente che è necessario per avere un buon allenamento quotidiano riposare circa 7-9 ore a notte, mentre per i ciclisti più impegnati devono considerare l'importanza del riposo notturno perché è fondamentale per la rigenerazione e riparazione tessutale. E' possibile con una piccola formula matematica calcolare quante ore di sonno sono necessarie. Si fa 8 più il numero dei chilometri settimanali per 0,5. Il sonno è un processo estremamente attivo, durante questo sonno entrano in gioco degli ormoni prodotti dal nostro organismo che sono utili per la riparazione, rigenerazione tessutale e anche per aumentare le difese immunitarie. Quali sono questi ormoni? Abbiamo l'ormone della crescita che praticamente viene liberato durante il sonno profondo, ovvero nella fase non REM, nelle prime ore di sonno, perché il sonno si divide in due fasi, fase REM e non REM. Questo ormone della crescita aiuta la riparazione di tendini, muscoli e cartilagini impiegati nello sforzo e anche per le ossa e determina una mobilizzazione dei grassi. Di conseguenza, quando dormiamo poco e male, viene prodotto in minori quantità. Di conseguenza, siamo più esposti agli infortuni tendini delle ossa e anche abbiamo un aumento della massa grassa. Poi abbiamo il cortisolo. Il cortisolo è un ormone che prepara l'organismo all'allenamento fisico e mentale e non viene prodotto quando si dorme. Di conseguenza, se dormiamo poco, si hanno dei elevati livelli di cortisolo nel sangue e di conseguenza, se ha un abbassamento delle difese immunitarie, siamo più esposti a malanni e infezioni. Poi abbiamo la melatonina, che è un ormone che mi regola il ritmo sonno-veglia, il cui precursore è il triptofano e infine poi abbiamo la serotonina, che è un neurotrasmettitore, è un ormone che viene prodotto nella fase non REM è l'ormone del buon umore. Un'altra cosa importante è che il sonno incide anche sul bilancio idrico dell'individuo. Da non sottovalutare anche, quando dormiamo poco e male, la sacchezza mentale, la difficoltà nella concentrazione e di adattamento. Quali sono le cause in genere che mi determinano un sonno cattivo? In genere è l'adrenalina, che è l'ormone dello stress per eccellenza. L'adrenalina è anche l'ormone che spinge il piede del ciclista sul pedale durante la gara, ma è anche lo stesso ormone che la notte prima delle gare ci fa dormire poco e male. Di conseguenza per far questo è necessario che l'allenamento avvenga in genere non prima delle 4 ore di andare a letto, quindi non tardi la sera. Questa è una pratica che comunque il ciclista può tenere tranquillamente a bada, perché in genere gli allenamenti avvengono la mattina e anche le uscite. Di conseguenza durante l'allenamento questa adrenalina viene prodotta in eccessiva quantità ed viene smaltita lentamente. Quindi anche la luce ha degli effetti, perché inibisce la produzione di melatonina e di conseguenza abbiamo un'alterazione del ritmo sonno-veglia. Quindi concludendo dobbiamo dire che il buon sonno è parte integrante dell'allenamento, quindi il ciclista lo deve tenere in considerazione. È possibile anche se si riposa poco e male fare un piccolo riposino pomeridiano per recuperare il sonno perso durante la notte ed anche effettuando delle piccole modifiche comportamentali e alimentari che ci daranno una buona risposta in avere un sonno adeguato e ristoratore. Grazie. Ringraziamo sempre per i buoni consigli la dottoressa Giussi Catapanno della Farmacia del Sole. Ahimè Giussi, quanto mi manchi! Allora, saluto Antonio Miraglia che ci sta guardando, Giuseppe Sino, Francesco Cioffi che ci dice, mino saluti anche da Sarri. Adesso svegliamo perché questo saluto da Sarri, perché tu hai postato evidentemente una foto. Stavo con Sarri che gli portai la maglia rosa di Vincenzo Nibali. Perché Sarri è un appassionato di ciclismo. Lui è appassionato di ciclismo, anche il papà, quindi mi ospitò a Casselvolturno. Quando hai tempi? Qualche annetto e mezzo fa. Sì, sì, sì. No, no, dico i tempi belli di una volta. Ah, tempi belli di una volta, sì. Poi c'è Vincenzo Ciccarelli che dice, buonasera, scusate il ritardo. Vabbè, siamo sempre pronti e aperti a tutto. Allora, ritorniamo un attimino al ciclismo. Nello, noi questa sera faremo vedere un servizio che ho realizzato domenica per le strade, la campagna e le quattro province. Abbiamo toccato Caserta, Benevento, Salerno e Avellino. Partendo da Napoli, da Marigliano. Però parliamo di Randonnei, questo fenomeno che dalla Francia è arrivato in Campania grazie a Mariano Russo, però con il lavoro di tutti, soprattutto di Giuseppe Gallina, che è diventato vicepresidente nazionale dell'Audax, sta crescendo. Sta a differenza tra Gran Fondo e Randonnei. Gran Fondo, manifestazione amatoriale sì, ma di competizione. Randonnei, amatori puri. Guarda, devo dirti, poi sostanziale differenza non la vedo, nel senso che qualsiasi manifestazione va giustamente a promuovere quello che è il movimento sportivo, nel caso specifico il movimento ciclistico è sempre ben accetto. è bello che accanto all'entusiasmo degli organizzatori, accanto all'attenzione anche di noi operatori del settore, ci sia anche un risveglio delle istituzioni, che è importante vedere che arrivino finalmente a intuire qual è l'importanza di manifestazioni che mettono assieme decine, centinaia di appassionati che salgono in bici e che percorrono alcune delle zone più belle e libere dalle auto, perché poi ovviamente sono fortunatamente scorci straordinari che in quel momento sono riservati agli appassionati delle due ruote e ovviamente a chi segue queste gare. È sempre quindi importante quella che è la promozione ed è sempre utile e necessario che ci sia la vicinanza di tutti a chi si sbraccia e organizza queste manifestazioni. Certo, quindi ben venga questo movimento perché anche, insomma, non bisogna dimenticare una cosa importante e mi rivolgo soprattutto alle amministrazioni comunali, è un indotto che porta tanto, cioè non è soltanto lo spettacolo o il passaggio della competizione, della manifestazione, ma è un indotto che porta anche bene nel commercio locale. Già si fatica a organizzarle le cose, le amministrazioni già hanno poca cassa, ma se chiedono poi agli organizzatori anche, come è capitato in alcune circostanze, di pagare per esempio, faccio un esempio a casa, la polizia municipale, vuol dire che non abbiamo capito proprio niente. No, infatti, infatti. Allora, noi ci gustiamo queste immagini, beh, un po' bagnate, anzi forse troppo bagnate, perché domenica 26 maggio, se ricordate, è stata una giornata da dimenticare, però andiamo con la Random Fabianum, prima edizione della Random Fabianum da Marigliano. Ok. Amici appassionati di ciclismo, buonasera. Siamo all'interno del palazzo ducale di Marigliano, guardate qui c'è una riproduzione del santo protettore delle suore, il duca, la regina Giovanna, e proprio domenica prossima qui all'interno del castello ducale ci sarà, si rivivrà una manifestazione, l'assalto al castello, ci sarà una battaglia fuori, insomma una cosa bella, storica da vedere, però questa è la partenza della Random Fabianum, prima Random Fabianum, partenza da Marigliano, partenza e arrivo da Marigliano, se si toccherà Montevergine, Lauro, veramente sono tanti i paesi, beh, la giornata non è delle migliori, piovigina un po', ma i randaggi già sono pronti per affrontare questi chilometri, anche perché il tutto serve per arrivare lì, dove tutti ambiscono a Parigi. Voi questa sera ci seguite? Venite con noi perché sono tante le cose belle da vedere. Grazie a tutti. 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 Siamo giunti a Lauro, il primo ristoro, controllo, insomma, i ragazzi sono, li vedete, sono tutti organizzati con abbigliamento contro pioggia, ma i randaggi sono così, praticamente non hanno paura della pioggia, non hanno paura di nulla, anzi adesso li avvicino. Allora ragazzi, come sta andando? Niente, fino ad adesso, nonostante la pioggia, è andata bene, è un percorso fantastico fino a questo momento, sicuramente anche il seguito non sarà peggio. Allora, avete attraversato un posto meraviglioso che per noi ciclisti è meraviglioso, la Madonna del Carpinello a Visciano, è stata una salita dura? No, 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 niente affatto, è bella, tranquilla, per me è stata la prima volta, quindi è stato fantastico, veramente bello. Allora, un attimo che mi sposto perché mentre lui diceva la salita non è stata faticosa, l'altro amico, eccolo qui, insomma, che sta dicendo? E' lui che è molto preparato, noi no. Ah, voi non siete, allora il vostro gruppo qual è? Circo L'Amaturi della Bici, di Atripalda. Di Atripalda, allora questi ragazzi, insomma, stanno affrontando questi chilometri nonostante le avversità della giornata, allora all'interno... Vi aspettiamo il 7 luglio ad Atripalda. Atripalda, 7 luglio. Per lei? Sì, la nostra randonnée organizzata il 7 luglio, Terra Irpina, vi aspettiamo tutti numerosi, sarà una giornata fantastica. Allora, sicuramente ci saranno tutti i randaggi, anche perché il 7 luglio, oramai, insomma, piena estate, quindi si presume che la pioggia... No, incrociamo le dita, allora entriamo dentro, andiamo all'interno. Allora, giustamente abbiamo cominciato dall'esterno, perché veramente le avversità sono tante, però adesso siamo all'interno della pasticceria GF3 all'Auro e con me il titolare Carmine. Allora, Carmine, oggi affluenza di ciclisti, insomma, tanto caos perché purtroppo c'è la pioggia, però voi grande ospitalità, grande collaborazione. Ci siamo organizzati al meglio, un bello evento, lo dobbiamo ripetere ogni anno perché veramente pubblicizza un po' tutto il Vallo di Lauro, che è una bella realtà che abbiamo qua e quindi un addomai ora a queste manifestazioni. Nonostante il tempo non ci arrendiamo, ci siamo stati trovati sempre pronti, in ogni momento. Grazie a tutti per la collaborazione. Sempre grazie a tutti e ricordo per gli amici ciclisti, anche perché siamo vicino a Visciano dove c'è la Madonna del Carpinello, quindi la Madonna di tutti i ciclisti. Se vi trovate a queste parti, pasticceria GF3 qui all'Auro. Noi continuiamo il nostro percorso. Grazie a tutti. Allora, siamo ad un altro punto controllo, anche a Ristoro, siamo a Siano all'interno di Ciclibotta, Ciclibotta che funge da punto controllo e anche a Ristoro, con me Giuseppe, e continua la generazione dei Botta, ma da quanti anni siete nell'ambiente? Salve, buona giornata. Noi siamo dal 1932, sono quasi 90 anni che parliamo sempre di bici, siamo sempre a pedalare, organizziamo gare ciclistiche. Cioè quindi nonno, papà, mio padre, mio nonno e adesso tocca a me. È una famiglia che mangiamo pane e ciclismo. Purtroppo cerchiamo di mettere altra gente sempre in bici. Siamo onorati di partecipare e aiutare questa manifestazione a crescere. Perché in effetti noi siamo abituati a vedere la Gran Fondo, a vedere la gara a circuito, ma il mondo delle randonnée è da qualche anno che si sta avvicinando alla campagna. Quest'anno particolarmente, purtroppo oggi piove, però l'affluenza a queste manifestazioni sta crescendo perché ci sarà la Parigi-Brest, quindi insomma quest'anno veramente i randonnée sono molto molto motivati. Però nonostante la pioggia ci siamo. La randonnée è un mondo bellissimo anche perché non è come la Gran Fondo che c'è bisogno di premi, non c'è bisogno di chi vince. L'importante è partecipare e arrivare al traguardo. Quindi per me, che ho vado da tanti anni in bici, ho sempre corso, ho partecipato a varie randonnée con Audax, è veramente una cosa bellissima. Perché fa parte di... cioè si unisce tra la bici, amicizia, anche con il tempo diciamo si pedala. Piove, neve, si pedala sempre. Insomma i randaggi sono così. E se lo dice Giuseppe, insomma un pochettino dai, ci dobbiamo credere. Allora la ciclibotta è tutto, noi continuiamo. Purtroppo salta Montevergine, però ancora altro punto di ristoro. Dovrebbe essere l'altro punto di ristoro a Sulmonte. A Sulmonte. In bocca al lupo ai randaggi e noi siamo qui per onorarli. Grazie mille, buona giornata. Continuate a seguirci. Ultimo punto di ristoro e controllo della Rando Fambianum. Siamo a Sulmonte, provincia di Avellino e con noi il primo cittadino di Sulmonte, Pasquale, il dottor Pasquale Giuditta. Allora, pioggia a parte, complimenti per il posto perché abbiamo avuto l'occasione di visitare anche Sulmonte e grazie per l'accoglienza. Ma noi ringraziamo in tutto voi che siete venuti a fare questa tappa in uno dei borghi più belli d'Italia e noi stiamo facendo proprio un'azione di promozione del nostro territorio. Invidiamo tutti a venire, a visitarlo, dove alla base per noi c'è la qualità della vita. Anche la pioggia fa parte di questo elemento. È meglio avere una pioggia che stare in un ambiente inquinato. Per noi quindi è un onore e chiediamo a tutte le associazioni di incentivare sempre la visita a Sulmonte perché credo che è una cosa molto positiva. Ecco, allora noi diamo anche il nostro supporto. Sulmonte cosa offre? Ma sulmonte lo dicevo, oltre ad offrire un ambiente sano, offre una serie di elementi storici, culturali, di tradizioni, e un percorso ambientale, naturalistico, straordinario, quasi unico nel sud Italia e quindi offriamo tantissimo. Quindi chi viene a Sulmonte veramente viene in un oasi. Ecco, allora insomma avete sentito un oasi, uno dei borghi più belli d'Italia, qui in Campania, provincia di Avellino, Sulmonte. Vi invitiamo a visitarlo perché nonostante la pioggia è un borgo eccezionale. Allora, il punto di partenza di stamattina alla Rando Tour Campania era il Palazzo Ducale. Qui c'era soltanto il ritrovo, mentre siamo ritornati alla base dopo i 185 chilometri della prima Rando Tour Fabianum. Con me il Presidente e il Vicepresidente Michele Guartucci e il signor... Carmine Menna. Carmine Menna. Allora, loro praticamente rappresentano Proloco di Marigliano, organizzazione perché poi ne parleremo, è una cosa molto importante perché qui il primo di giugno c'è una festa che riguarda la patata e insomma quando c'è la patata per lo mezzo bisogna fermare gli orologi. Allora Michele, pioggia a parte perché è stata una giornata imprevedibile, il 26 di maggio ha fatto tanta pioggia, io non ricordo un 26 di maggio così, però è una bella manifestazione. Una bellissima manifestazione, io ringrazio i randonè che sono venuti qua, hanno timbrato il carterino al Castello Ducale di Marigliano, poi è diventato Palazzo Ducale per la sede dei Mastrilli, che sono i duchi che sono rimasti più tempo in questo castello. Per quanto riguarda poi tutta la manifestazione stamattina, a parte la pioggia come hai detto tu, tutto il resto ottimamente, è un piacere per noi ospitarvi, l'accoglienza è dovuta e per noi abbiamo fatto sempre così, noi accogliamo chi nel nostro territorio viene, lo gusta in tutti i sensi, dal punto di vista culinario anche culturale, perché noi non abbiamo mai abbandonato la cultura e la parte più materiale che magari potrebbe essere la degustazione, ma in realtà se noi volgiamo un attimo le spalle, questo che vedete qua, questa mostra didattica la chiamo così, ma più che altro è una mostra che con pochi reperti archeologici che sono della nostra zona alcuni, altri sono di un maestro che ha lavorato la pietra e ha fatto diventare quello che si può osservare qui in esposizione. Come dire, c'è una continuità che magari parte anche da 4.000 anni fa, ma è una continuità in questa nostra zona che deve essere comunque continuamente ricordata alle generazioni. Allora, veniamo con Carmine. Carmine, allora, non voglio ripetermi sulla domanda, però vogliamo dare un accenno alla sagra della patata novella. Questa è la diciassettesima edizione che noi facciamo sul territorio ed è molto, diciamo, importante e siamo orgogliosi di quello che facciamo. Ritorniamo alla presentazione di questa sagra della patata novella che si terrà il primo giugno, che è sabato prossimo, a Marigliano, in località Faibano, l'associazione Ambiente Azzurro Onlus, che organizza. Insomma, ci sarà di tutto. Apertura sagra alle ore 20, fino alle ore 24. Si potrà gustare tanta roba, tipo pennette. Insomma, poi? Patate novella al forno, lelle, salsicce, porchetta, che è molto richiesta. E vabbè, la fantasia contadina, che è il nostro pezzo forte, che sarebbe la pasta e patate con provola, e poi lelle che... Lelle! Cosa sono queste lelle? Allora, Michele, cosa sono queste lelle? Sono una leccornea, diciamo così, non fritta, ebbè, diciamo di dire, è fritta, però è veramente una cosa molto gustosa. E poi, diciamo che potrebbe essere considerato un piatto povero, o un contorno povero, ma che in realtà, diciamo, dà tanta soddisfazione al palato. Sono le bucce di patate. Le bucce di patate, signori. Le bucce di patate novelle. Quindi non buttiamo nulla della patata. Ebbè, allora io ringrazio Michele, ringrazio Carmine, in bocca al lupo, e a voi dico, se sabato avete tempo, anzi, trovate dal tempo, venite qui a Marigliano, a Faibano, per la sagra della patata novella. No, leggevo i commenti. Gennaro Oliva che ci scriveva come sono buone le 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 le. È veramente... Io non le conoscevo, ragazzi. A quest'ora è un attentato. A quest'ora è un attentato, ma veramente complimenti. Questa era soltanto la prima parte del servizio dedicato alla Rando Fabiano, ma adesso mi devo alzare. Mi devo alzare perché mi devi dare questa maglia, perché la faccio vedere. E ringrazio ancora una volta i fratelli Balsamo. Fratelli Balsamo che non ti hanno... cioè ti hanno appoggiato dalla prima tua manifestazione che hai organizzato, no? Un'azienda che ti sta vicino da sempre. Dalla prima mia edizione di organizzazione... Che fu la prima di Dian Gli Amatori, Giro di Torre del Greco. Sì, primo trofeo ciclistico. Primo trofeo Vincenzo Nibali, sì. Quindi ringraziamo Fratelli Balsamo. È un'altra persona che voglio ringraziare. Approfitto di questo momento per fissare anche un appuntamento al volo live. È il dottor Gianmarco... Micelli. Micelli che è l'amministratore delegato del Vulcano Buono che ha messo a disposizione una struttura meravigliosa ma è appassionato di ciclismo. Lui esce tutte le domeniche in bici e anche in settimana quando riesce. Anche in settimana quando riesce perché poi gli impegni giustamente per gestire una struttura del genere. eccolo qui, lo vediamo dall'alto. Il vulcano originale poi c'è sotto... È quello buono. È quello buono. Insomma, diciamo che anche il Vesuvio momentaneamente è da qualche anno è quello buono però è diversa la cosa. Ecco, questa è la struttura vista proprio dall'alto con i parcheggi, con le aree attrezzate. Questa è un pochettino la piantina che hai fatto tu, Francesco, no? Nella parte esterna ci saranno tutta la logistica della zona partenza-arrivo con parcheggi riservati agli atleti aree hospitality per gli ospiti, per gli sponsor e all'interno, come siete dalla planimetria allestiremo lo spazio per il pasta party che verrà fornito stesso da un'attività che c'è all'interno del vulcano. All'interno, quindi è. Quindi io ho cercato di mantenere l'equilibrio con gli operatori commerciali del vulcano buono. Ed è giusto, è da persone intelligenti e mature. Per questo io dico quando parlo di una futura nove colli campani non è che dico perché il percorso è bello ha detto agli scalatori no, io non mi riferisco a questo mi riferisco ad un'organizzazione che ha pensato prima al divertimento puro degli amatori affiancati naturalmente dalle proprie famiglie perché ogni amatore ha la moglie ha la fidanzata, ha dei figli quindi di conseguenza venendo a seguito devono fare qualcosa e ci sono veramente tante organizzazioni e tanti momenti di svago nell'attesa che rientrino poi tutti i ciclisti. E l'altra cosa importante è dare la possibilità a chi è vicino a chi è all'interno in questo caso del vulcano buono di lavorare e cooperare con la manifestazione e questa è la persona intelligente quindi il futuro Francesco ce l'hai assicurato non fai parte di quegli organizzatori che organizzano la gara per portarsi a casa il 100 euro ecco diciamolo bella nuda e cruda io mi auguro di no guarda mi auguro di no perché veramente è quello che stai facendo però come ci lo siamo detti qualche mesetto fa ci devi lavorare sopra ricordati nove colli facendo sempre il paragone con la nove colli cominciò ahimè l'anno prossimo 50 anni fa con 7 ciclisti 7 amatori 7 pazzi che cominciavano questa avventura oggi conta 14.000 e passa amatori iscritti e se va a chiedere agli organizzatori scusa ma tu che lavoro fai nella vita organizzano nove colli ho detto tutto sintetizzato ho detto tutto allora dopo parleremo di come iscriversi il sito insomma e quant'altro adesso gustiamoci la seconda parte della Rando Fabianum ce la facciamo piano piano senza problemi allora io lo becco a volo anche perché sembra asciutto ma non lo è assolutamente però gli ultimi chilometri sono stati pedalati senza pioggia giusto Sergio? sì 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 gli ultimi sono stati fattibili eravamo solo bagnati chiaramente sotto sotto allora Sergio Pesole dei Bike Forever dal Gran Fondo al mondo delle Randonnée come mai e che sensazione hai avuto perché questa è la seconda questa è la seconda sì beh è un'esperienza nuova indubbiamente consiglio a tutti di farla perché poi è facile dire cosa è buono o meno bisogna anche farla insomma per fare una critica costruttiva è divertente non c'è l'ansia della prestazione gli amici sono tutti molto cordiali è un mondo un po' più tranquillo un po' più sereno insomma percato per la pioggia perché veramente i primi forse 150 km sono stati terribili ho preso tanta acqua proprio a Avellino dove poi lì piove parecchio però insomma fa parte del gioco insomma voglio dire fortunatamente ce la siamo cavata bene allora ti lascio andare che ti vai a docciare ciao Sergio grazie una battuta al volo appena arrivato bagnato com'è stata questa randonè perfettamente sotto l'acqua dall'inizio alla fine che non mi non mi è capitato durante l'inverno di prendere acqua o gelo c'era fine maggio pioggia però non faceva freddo quindi alla fine peccato che non abbiamo salito non siamo saliti a Montevergine è peccato certi bei paesaggi purtroppo con la pioggia che dobbiamo fare e beh la rifaremo l'anno prossimo grazie situazione meteorologica avversa sono arrivati ma insomma vedo due signore quindi significa che il mondo dei randaggi non è soltanto maschile ma anche femminile com'è andata signore chi comincia per prima no no Maria dai no è andata bene peccato il tempo brutto che ovviamente non ci ha permesso di godere delle bellezze delle bellezze perché questa è la prima edizione effettivamente quattro province è una cosa meravigliosa no? si è una cosa molto bella e mi è piaciuto particolarmente il castello quello lì quando prima di Lauro come si chiamava? è l'ancillotto allora mi sembrava di vedere Ginevra che usciva da qualche parte ma Ginevra non è uscita comunque è bellissimo un bel panorama peccato per la pioggia però è stato molto simpatico molto simpatico allora siamo in chiusura di questa di questa manifestazione è inutile ripeterci percorso bellissimo posti bellissimi però purtroppo la pioggia l'ha fatta da padrona e non poteva mancare come è successo a Sommonte anche qui a Marigliano il primo cittadino di Marigliano venuto ad onorare questa prima edizione della Rando Fabianum il dottor Antonio Carpino allora sindaco Marigliano che entra in un circuito molto particolare che è il Rando Tour Magna Grecia ciclisti che hanno avuto la possibilità di visitare i posti importanti di Marigliano e non solo grazie a voi dell'ospitalità sì grazie a voi invece di averci onorato di averci onorato con l'organizzazione di questo evento a Marigliano siamo veramente onorati e do il benvenuto a tutti gli atleti innanzitutto e voglio ringraziare le associazioni che hanno organizzato la Prologo Civitatis Ambiente Azzurro che hanno organizzato l'accoglienza qui a Marigliano mi fa molto molto piacere che si tengono qui questa iniziativa e che Marigliano possa entrare in questo circuito molto importante perché così valorizziamo il nostro territorio oggi è partita da un punto bellissimo della nostra città uno dei simboli della nostra città anzi uno dei punti intorno ai quali è nata la nostra città che è il Palazzo Ducale quindi mi sembra veramente un evento un evento importante da tenere in considerazione e da ripetere anche l'anno prossimo magari non so quali sono le scadenze ma ci candidiamo e diamo la massima disponibilità ad accogliere di nuovo questa iniziativa e io a nome di tutti i randaggi dico grazie ritornando al Palazzo Ducale domenica prossima ci sarà l'assalto a Castello no? ripercorrerete la storia del Castello Ducale infatti siamo stati all'interno abbiamo filmato tutte le immagini che stanno preparando anche lì insomma la storia importante di Marigliano viene fuori viene ricordata sì è un'iniziativa un'iniziativa molto bella che si un evento sostanzialmente dura tre giorni tutto il centro storico si trasforma in un borgo medievale e si conclude poi l'evento clou è sempre l'assalto a Castello è molto spettacolare vede una grande partecipazione di persone di pubblico anche i figuranti sono tantissimi sono centinaia ci sarà sabato sera ma ci tengo a dire che tutto tutto l'evento dura tre giorni da venerdì inizia nel pomeriggio e vede degli spettacoli vede musica vede la gastronomia tutto tra venerdì sabato e domenica intorno al Castello e nel centro storico è un'iniziativa molto bella vi invito a partecipare sarete benvenuti allora io approfitto di questo invito del primo cittadino di Marigliano un prossimo fine settimana ricco di eventi qui a Marigliano l'assalto a Castello la sangra della patata novella e posso dire adesso lo posso dire le 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 sono un qualcosa di eccezionale vi invito qui a Marigliano e ringrazio il sindaco e sicuramente arrivederci all'anno prossimo grazie grazie a voi arrivederci allora siamo con l'organizzatore di questa prima edizione della della randonnée rando Fabianum e giustamente mi risulta difficile guardarlo in borghese perché di solito ti intervisto sempre con i panni da ciclista allora Ferdinando Caliendo organizzatore insieme ai tuoi amici del club un po' sfortunato diciamolo va bene sfortunato sotto a un punto di vista diciamo così meteorologico esatto ma per chi sta pedalando però oggi sono stato fortunato per me perché era un mio sogno questo già da qualche anno e ci sono riuscito ci sono riuscito anche grazie al mio gruppo al mio presidente Mariano Russo e devo ringraziare prima di tutto chi mi ha dato una mano qua come l'associazione Abienda Azzurra di Michele Guattucci e tutti il suo staff diciamo così io ti posso dire una cosa invece io sapete che io dico sempre quello che penso non ho peli sulla lingua allora ho seguito tutta la randonnée giustamente era la prima edizione quindi mi sono fatto tutti i chilometri anzi forse parlando con Mariano Russo ho fatto qualche chilometro più ma in macchina e pioggia a volontà anzi faccio i complimenti a tutti i ciclisti che hanno che hanno continuato a pedalare che non si sono ritirati però ti posso dire Ferdinando non mollare perché questa è una randonnée che è un percorso bellissimo guarda è fantastico basta un pochino toccare anche Caserta ed è l'unica randonnée che attraversa tutte le province campane questo è vero sì no mollare mai perché io voglio ricordare questo randonnée l'ho iniziato cinque anni fa sotto una randonnée di Giuseppe Gallina eravamo solo dieci di noi e da lì diciamo è sfoggiato tutto e c'era anche il mio presidente attuale Mariano Russo infatti ecco vengo da un buon maestro eravamo dieci o undici se non erro quindi no la pioggia a me non mi batte il prossimo anno sicuramente sarà migliore migliore di questo sicuramente ma beh ringrazio chi mi ha aiutato tutti i sponsor in primis anche loro grazie a loro ho fatto diciamo qualcosina in più sempre per i ciclisti va bene così ringrazio il sindaco Antonio Carpino che a breve verrà anche lui e tutti i punti controllo Cicli Botta Bar GF3 a Lauro Borgomeria di Summonte e a Bracigliano il Bar Caffè 29 sul percorso corto allora io ti ringrazio e ci vediamo l'anno prossimo dai sicuramente sarai dei nostri sicuramente ok grazie allora signori ci siamo anche questa edizione di 52 per 12 in esterna sta per terminare si conclude qui da Marigliano questo appuntamento Rando Fabianum prima edizione tanti chilometri vieni qui vieni Mariano giovedì scorso lo avevo in studio oggi qui non in veste da ciclista ma da organizzatore allora siamo siamo alla fine oggi è stata una giornata molto difficile specialmente per i ciclisti infatti non ho più voce acqua dalla partenza all'arrivo una rando molto molto difficile anche per il freddo a Summonte non arriveranno i multi ma sono stati veramente hanno sofferto molto ma hanno fatto veramente una grande gara quindi complimenti a quelli che sono partiti e quelli che sono arrivati certo io mi mi aggancio a quello che ha detto poc'anzi Mariano Russo faccio i miei complimenti a tutti i partenti e soprattutto a coloro che hanno avuto il coraggio di affrontare i 185 chilometri nonostante le condizioni meteo avverse quindi veramente particolare questa edizione della Rando Fabianum sicuramente l'anno prossimo si ripeterà perché è un percorso bellissimo Mariano quattro province attraversate ma chi l'ha pensato tu o Ferdinando? allora devo ringraziare Ferdinando perché ha organizzato tutto lui ha una passione un entusiasmo veramente notevoli e quindi io ho solo supportato ringraziamo quelli che ci hanno aiutato dal sindaco di Mariano a Bartuccio Michele l'anno prossimo col bel tempo speriamo di avere qui molti molti ciclisti sicuramente allora io saluto Mariano Russo saluto voi ringrazio sempre per l'attenzione che pressate a 52 per 12 in esterna l'appuntamento è rimandato alla prossima settimana ciao beh insomma grande soddisfazione quando si porta a casa un risultato del genere saluto Pietro della Versana che ci scrive un salutone a voi tutti dall'ASD Fine Bikers poi ne siete veramente tanti Antonio Ligori Giovanna Domenico Gianrusso Licenziato Santolo Mariana Stefano Antonio Cioffi carissimo sindaco buonasera poi Giuseppe Guidone Giuseppe Gallino tanti anche tua moglie ti sta seguendo ciao Anna buonasera è qui con noi tranquilli poi c'è Ferdinando Caliendo che ci scrive grazie di cuore Mino grazie a te Ferdinando e a proposito tantissimi auguri di Buon Amo Massico perché oggi si festeggia Sanna Ferdinando e poi mi aiutate ragazzi Maria Luisa Guarciariello scrive soda cioè soda perché lei è soda o sa significare qualcos'altro è da scoprire è da scoprire ok un bacio Maria Luisa allora siamo siamo in in chiusura Raffaele Russo per rivedere Raffaele le repliche ci saranno sapete che 52 per 12 va in continua replica però insomma verrà caricata anche sulle nostre pagine allora in chiusura Francesco cominciamo sito www da dove dal quale sito posso descrivere nella sezione di posso descrivere sia con tesserati e anche non tesserati aspetta che significa tesserati e non tesserati tesserati non è tesserato con un team non è filiale ah ecco può subire da una tessera giornaliera quindi sul sito troverà tutte le informazioni ecco qui vediamo la locandina non mancare all'evento dell'anno Moserra Chiappucci Simoni ti aspettano gran fondo della campagna beh insomma voglio dire che questo verde spacca spacca veramente tutto un verde speranza e poi a proposito per questa maglietta come c'è nel pacco gara come è fatto posso descrivere con o senza con un piccolo contributo con un piccolo contributo cioè aspetta ah ecco quindi no diciamolo perché altrimenti poi si aspettano si aspettano di tutto giustamente noi non facciamo pagare 70 80 90 euro come come succede in altre manifestazioni quindi con un contributo aggiunto verranno dicevano nel pacco gara anche la maglia anche la maglia quindi sta maglia e chi non per esempio faccio un esempio chi non non gareggia faccio il mio esempio che vengo lì per lavoro io voglio pulire la maglia e beh per tutto lo staff sto programmando meno male meno male per tutto lo staff c'è uno sponsor tecnico che ci vestirà tutti ah ok quindi insomma stai facendo le cose proprio ad alto altissimo altissimo livello qualcos'altro da aggiungere speriamo che in tanti si iscrivano da questo sicuramente sicuramente perché l'interesse è talmente alto perché poi mi rendo conto stanno in giro su tutte le manifestazioni di campagna mi rendo conto che la domanda viene fatta chi mi chiede ma viene fatta veramente chi mi chiede a che punto chi mi dice addirittura che non si fa è una bufala però già questo significa che l'interesse ci sta quindi noi confermiamo e smentiamo tutte quelle voci che dicono che la Gran Fondo Campania non si farà si farà il 22 di settembre è necessario abbassare Carsi a Vulcano buono andare a vedere anche è quello che è stato creato si entra e si vedono già i manifesti quindi fatemi una passeggiatina magari portate le vostre mogli perfetto anche ad acquistare qualcosa che comunque può essere sempre positivo e accanto a questo scoprirete che c'è un mondo quando dicevi la nove colli gli organizzatori stanno scalando in questo momento i nove colli quindi è importante che ci sia attenzione ma soprattutto che non ci sia chi rema contro che non si fa si farà sicuro e anzi ci sono già importanti investimenti alle spalle il sostegno di chi sta credendo fin dal primo momento all'organizzazione a questa realtà come lo dicevamo prima i fratelli Balsamo perché la maglia è verde probabilmente anche per i colori dei confronti dei fratelli Balsamo che si occupano tra l'altro di quello che è di che sono gli aspetti legati all'ambiente oltre che essere custodi giudiziari di veicoli sequestrati per tutta Napoli e provincia insomma parliamo di una grandissima struttura di una grandissima realtà che è vero che è stata sempre vicino a Francesco Vitiello ma è stata sempre vicino a Francesco Vitiello perché Francesco Vitiello ha fatto ha fatto giustamente giustamente così allora in chiusura io voglio ricordarvi un'altra manifestazione importante che cadrà il 30 di giugno sabato quindi primo di giugno quindi comincia il primo di giugno e termina il 30 ma il lavoro alle spalle lo stesso viene fatto nei mesi mesi e mesi sto parlando della Maratona del Matesanio sabato si terrà la conferenza la conferenza stampa quindi nel comune di Gioia di Gioia Sannidica ecco qui insomma state vedendo anche tutto ciò che sarà presentato l'invito pure vabbè giustamente il grande Aldo Di Palma mi ha mandato l'invito grazie Aldo ci vediamo sabato sabato sera per la presentazione della conferenza stampa quest'anno i moderatori saremo io e te insomma l'hai messo anche per iscritto e poi il 30 giugno vi aspettiamo tutti a Gioia perché veramente anche questa Francesco come ti ho sempre detto è un'organizzazione raggiunto la settima edizione è una riorganizzazione che cura i particolari attraversa 13 comuni due province cura cura l'aspetto delle strade della sicurezza il passaparty che è importante la premiazione per la soddisfazione dei ciclisti quindi veramente complimenti anche agli organizzatori alla stessa ASD Matesanio che organizza la grande Claudio Aldo e tutti coloro che lavorano per questo evento saluti ci vediamo sabato primo alla Randonnée Raffaele Russo mi chiede non lo so ancora Raffaele se sarò presente alla Normanna mi auguro di sì ma ve lo comunicherò sui social Francesco dimmi allora volevo precisare che la Gran Fondo Campania rientra nel circuito dello Scudetto Campano quindi ne approfitto per salutare tutti gli amici dello Scudetto Campano certo allora salutiamoli insieme Aldo Antonio Antonio Solimeno che sta collaborando anche lui con me su questa Gran Fondo quindi certo Antonio mi raccomando tieni duro perché questa è una grande organizzazione ti ringrazio Francesco della tua presenza questa sera ma ti aspetto perché oramai da qui al 21 di al 20 di settembre sarà un continuo parlare della Gran Fondo della Campania quindi quando è ospite poi mi avevi promesso che in qualche puntata organizzavamo anche qualche telefonica se capita Claudio da queste parti ce lo ne voglio approfittare che dopo il giro lui mi confermerà la data del mese di giugno perché dovrà provare questo percorso della Gran Fondo quindi ne approfitto così sarà ospite da te perfetto tu lo fai capitare che la mattina ti fai la perlustrazione del percorso e la sera viene qui poi siete ospiti miei andiamo a cena insieme grazie a Aniello Aniello sei stato sempre formidabile come sempre e Gaetano mica tutto bene tutto tranquillo tutto procede bene mi raccomando tieni duro sempre anche perché Francesco poi senza di te si sente proprio perso no assolutamente la conferma anche di Aniello assolutamente e se lo dice Aniello è così? è lui che ti ti fa venir la voglia di fare le cose ti trascina proprio e quindi ti fa fare le cose con una serenità e voglia e voglia allora con le belle parole di di Chetano nei confronti di Francesco perché ecco anche questo è il bello del ciclismo l'amicizia che ci lega al di là di tutto io vi saluto vi ringrazio vi do l'appuntamento alla prossima edizione di 52 per 12 ovvero giovedì prossimo sempre alle ore 20 qui su quarto canale grazie a tutti voi e chiedo scusa se non ho letto tutti i messaggi ma la mancanza di Giussi stasera l'ho sentita alla prossima puntata questo programma è offerto da la prossima puntata Grazie a tutti. Via Salvatore Di Giacomo numero 2 Mugnano di Napoli. Liguori pregiati. La qualità prima del marchio.